Con il passare del tempo cresce la preoccupazione tra la marineria abruzzese per l'aumento degli avvistamenti del killer dei mari. Stiamo parlando dell'oramai famoso granchio blu, una specie di crostaceo molto aggressiva e avida soprattutto di vongole e uova di seppia. Questa volta a lanciare un nuovo appello il presidente di Federpesca Abruzzo, Vincenzo Staffilano. Sì esattamente, d'altronde il granchio blu mangia i molluschi per cui è preoccupato tutto il settore delle vongole ma anche la piccola pesca. Quindi è un danno enorme che fa la marineria sia locale ma anche regionale e forse adriatica dove esista questo granchio blu. Per dare una prima risposta il governo ha stanziato 2,9 milioni di euro previsti a supporto dei consorsi delle imprese di pesca e acquacultura che provvedono alla cattura e allo smaltimento del granchio blu. Una previsione discussa nel mese di settembre inserita anche nel decreto asset per impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico e per contenere il fenomeno della diffusione della specie. E' stato fatto delle richieste al ministero per poter beneficiare gli indennizi nel qual caso aumentasse i granchi blu in Adriatica, specialmente la regione Abruzzo e Giulianova. Comunque speriamo che il ministero adesso ci dia ascolti e ci dà qualcosa. Quindi da fondi sicure sappiamo che il ministero ci darà una mano e ci aiuterà. L'unica nota positiva è che il granchio blu viene già sfruttato commercialmente e questo può rappresentare sicuramente un'opportunità, oltre che un mezzo per contrastare la riproduzione incontrollata. Molti chef lo hanno proposto come piatto gurmene e menù. Sì, è un ottimo prodotto e si stanno cercando di specializzarsi per poter servirlo ai vari ristoranti interessati. Inoltre va ricordato che la regione Abruzzo ha diramato le direttive per contrastare la diffusione del granchio blu. Nel documento si chiede di comunicare le aree delle acque territoriali regionali nelle quali il fenomeno della diffusione di questo crostaceo rappresenta un'emergenza. Sembra solo allerta e quindi si sta cercando di monitorare questo granchio blu quotidianamente al fine di evitare che giunga anche qua da noi e faccia distruzione e quindi mette in pericolo per quanto riguarda il settore delle vongole e quindi tutti i molluschi con esse aderenti.